Smartsheet è la piattaforma per il lavoro dinamico che consente ai team e all'organizzazione di creare in modo intuitivo i flussi di lavoro e le soluzioni di cui hanno bisogno per ottenere rapidamente di più. È qui che puoi raccogliere tutti i tuoi dati in un unico posto, visualizzarli in vari modi e impostare l'automazione per portare a termine le attività. Per iniziare, tutto il lavoro che fai inizia in un foglio, una posizione flessibile di acquisizione e gestione dei dati che consente a te e al tuo team di collaborare in tempo reale attraverso un'unica esperienza basata sul cloud. I fogli a loro volta sono costituiti da colonne e righe. Le colonne sono personalizzabili e tracciano dati specifici. Ad esempio contatti, date, elenchi a discesa, caselle di controllo e simboli, nonché dati di sistema, quali la data di creazione e modifica. Le righe ti aiutano a raggruppare le attività in gerarchie e a mantenere il team organizzato con file allegati, link e conversazioni, documentati esattamente dove ne hai bisogno. Da una visualizzazione a griglia di base in un foglio, puoi anche passare alle visualizzazioni Gant, cartellino e calendario. La visualizzazione Gant è utile per esaminare attività e dipendenze. Usa la visualizzazione cartellino per visualizzare chiaramente e dare priorità al tuo lavoro. La visualizzazione calendario ti consente invece di visualizzare tutte le tue attività nel tempo. Puoi anche condividere i tuoi fogli con i membri del team all'interno e all'esterno dell'organizzazione, per collaborare in tempo reale. Ecco alcune funzionalità aggiuntive da esplorare. Moduli, per acquisire i dati in modo semplice e preciso e inserirli direttamente nel foglio. Automazione, per impostare notifiche e promemoria per continuare a lavorare. Bozze, per rivedere e commentare il lavoro con un reporting del processo di approvazione semplificato, per tracciare, monitorare e gestire le informazioni chiave. Dashboard, per condividere una visualizzazione personalizzata all'interno dell'organizzazione. Crea facilmente app senza codice che si adattino ai flussi di lavoro specifici del tuo team. Per iniziare, puoi partire da zero, importare lavoro da altre fonti o utilizzare uno dei nostri modelli o set di modelli predefiniti che abbiamo configurato per te. Per saperne di più, visita la guida e il centro di apprendimento di Smartsheet.